Due morti ed un ferito grave, oltre alla paralisi del traffico odostradale per molte ore. E il bilancio pesantissimo dell'incidente avvenuto stamattina tra Rometta e Villa Franca ha costato la vita a due operai di aziende che si occupano di commercializzazione del pesce. A perdere la vita il milazzese Aurelio Di Salvo, 49 anni, sposato, padre dei tre figli, dipendente della Salittica, nota impresa che si occupa di vendita di pesce fresche surgelato in via a cui viola Milazzo e poi un calabrese, residente a Bagnara. Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 7 di questa mattina e sul quale indaga la Polstrada di Messina. Sembra infatti che il camionista calabrese avesse da poco effettuato un carico di pesce a Milazzo e si accingeva a tornare oltre lo stretto. L'autista però è stato costretto a fermarsi per un guasto tra Rometta e Divieto a 500 metri da una stazione di servizio. Così da Milazzo è stato mandato il secondo mezzo condotto da Di Salvo che aveva il compito di trasbordare il pesce dal furgone in panne. Mentre i due autisti stavano svolgendo le operazioni di scarico del furgone per passarlo sul secondo mezzo sono stati travolti da un terzo camion condotto da un camionista di Acicatena. L'impatto è stato devastante ed è costato la vita ai due operai che sono morti sul colpo. Il camionista di Acicatena invece è stato trasportato con l'elisoccorso atterrato in autostrada al Papardo di Messina dove si trova in condizioni molto gravi. L'autostrada è stata chiusa in direzione Messina tra Milazzo e Villafranca per consentire i rilievi e la rimozione dei frammenti dei tre camion.